Le piste sono tutte aperte, si indaga a tutto campo per comprendere le motivazioni che hanno portato Illo e i killer a sparare a brucia pelo e a distanza ravvicinata uccidendo il 28enne Giuseppe Cianni Manico. A 24 ore dal terribile omicidio che ha sconvolto la città perché questa volta la vittima era davvero un bravo ragazzo, non si esclude nessuna pista, anzi sembra che questa volta proprio la criminalità organizzata non c'entri. Un colpo alla testa e uno al petto, mentre Beppe si girava su se stesso nel tentativo di proteggersi dai proiettili. Colpi sparati da una pistola calibro 9x21, arma facile da reperire sul mercato ufficiale se in possesso di regolare autorizzazione o sul mercato nero per poche centinaia di euro. Da fonti vicine agli ambienti giudiziari si apprende infatti che un uomo avrebbe telefonato all'agenzia immobiliare con la quale Cianni Manico collaborava da settembre chiedendo un appuntamento per visionare un immobile e ottenere una valutazione ai fini della vendita. Ancora tutto da chiarire il contenuto della telefonata. Quello che fino a questo momento hanno ricostruito gli investigatori è che l'uomo che ha telefonato avrebbe fornito un nome falso. Rancori, gelosia e interessi legati al mercato immobiliare. Procede l'indagine coordinata da Francesco Bretone. Ieri l'autopsia. I medici legali hanno confermato che la vittima è stata colpita alla testa e alla spalla da due proiettili di calibro 9 sparati frontalmente da distanza ravvicinata. La posizione delle ferite lascia ipotizzare che Cianni Manico abbia tentato di schivare i colpi. Tra le piste c'è quella del movente passionale, una folle vendetta per questioni sentimentali, un uomo geloso perché per uccidere da una distanza di 50 centimetri non ci vuole tanta esperienza, solo odio e rancore. Rancore anche professionale magari, un appartamento valutato molto meno di quanto ci si aspettava e questa è la seconda ipotesi che passa al vaglio cercando testimoni, ascoltando i colleghi di lavoro, spulciando l'agenda di Beppe. O ancora l'invidia, la gelosia di chi non tollerava l'ascesa professionale di un ragazzo che a soli 28 anni sarebbe diventato presso il responsabile di una filiale di Tecnocasa. In via Leiafige, infatti poco distante dal luogo in cui Beppe è morto, sarebbe stato inaugurato il nuovo punto commerciale, un locale per il quale era già stata data una capara e che sarebbe stato disponibile non appena si fossero completati i lavori di adeguamento. Nel frattempo, alla vittima, cresciuta nell'agenzia di Santo Spirito, si appoggiava a quella di via Cairoli. Da lì si è mosso il lunedì pomeriggio per i tanti appuntamenti che aveva in programma. Gli agenti della squadra mobile coordinati dal dirigente Luigi Rinella ripartono dal suo telefono cellulare, fonte preziosa di numeri che a loro volta potrebbero riportare a quell'incontro imprevisto e mortale. Oggi pomeriggio i familiari, gli amici, i colleghi e i cittadini saluteranno Beppe nella chiesa Stella Maris di Palese, dove saranno celebrati i funerali.